A Prato il prossimo anno si potrebbe tornare a correre il rally in Val Bisenzio, ma intanto l'Associazione Sport e Motori ha organizzato un rally-vival della Coppa Città di Prato dal 10 al 18 ottobre. C'è stato un grande interesse, un grande movimento e forse negli ultimi dieci anni forse è la prima vera possibilità di poter rifare il rally a Prato. Iniziamo sabato 10 ottobre con l'esposizione delle macchine in Piazza del Comune, alle 16 inaugurazione della mostra sulla storia del rally di Prato, filmati d'epoca, memorabilia, documenti storici. Sabato 17 di nuovo esponiamo in Piazza del Comune delle belle macchine che poi parteciperanno anche a Revival di notte e alle 21 da Piazza Nuovo Mercato partirà appunto il quarto Revival Coppa Città di Prato nella Valata del Bisenzio. L'iniziativa al patrocinio della provincia del Comune di Prato. Abbiamo voluto fortemente sostenere questo progetto invece perché potesse rappresentare proprio un segnale di ripartenza in un momento sicuramente complicato ma nel quale se fatto nelle regole giuste le nostre passioni e quella motoristica e lo sport motoristico in particolar modo è una passione che riguarda tanti pratesi, insomma è giusto che tornino a far parte della nostra vita. Intanto va a riportare la storia degli ultimi 45 anni qui a Prato di quello che è stato il rally pratese e nello stesso tempo veramente fa guardare una normalità oggi e fa anche guardare con un occhio più ottimistico per domani.